Dopo l'arresto di Michele Zagaria, solo uno è il più ricercato in Italia. Matteo Messina Denaro resiste alle redini di Cosa Nostra Siciliana. Lo ha confermato anche il procuratore nazionale antimafia, Piero Grasso. La cattura di lui, K. Storta, Michele Zagaria, capo dei Casalesi, è epocale. Come lo fu l'arresto di Bernardo Provenzano a Corleone e ancora prima Totò Riina a Palermo. Sono stati tanti e adesso è solo uno, Matteo Messina Denaro. Dopo Zagaria, Diabolik, così è inteso il boss di Castelvetrano, è l'ultimo latitante eccellente di massima pericolosità. È ricercato dal 1993, 18 anni e il prossimo 26 aprile compie 50 anni di età. Le operazioni Golem 1 e 2 hanno bruciato terra verso Matteo Messina Denaro. Anche il fratello, lui, Salvatore Messina Denaro, è stato ammanettato, processato e condannato. Lui invece di Fede Corleonese, stragista, ergastolano per le bombe del 93, per le quali avrebbe custodito l'esplosivo in una cava trapanese, è ancora uccello di bosco. Anche se chi lo insegue lo ritiene ormai braccato e isolato, nonostante il suo impero di milioni, frutto di droga, estorsioni e appalti. Al capo di Cosa Nostra si è rivolto lo scorso 18 novembre il vescovo di Mazzara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavero, che ha predicato così. Matteo Messina Denaro è un nostro dio cesano, si costituisca, saprà come fare. Lui, il latitante, sarebbe invece un irriducibile. A Bernardo Provenzano, in un pizzino, ha scritto Io non andrò mai via di mia volontà, ho un codice d'onore da rispettare. Anche il killer Gaspare Spatuzza, da uomo libero, parlando con gli amici, si vantava così Con me ho sempre una mitraglietta, perché se mi fregano mi voglio portare appresso almeno due o tre sbirri. Adesso è pentito. Gli altri due ricercati in Sicilia, dopo Messina Denaro, secondo la lista del Ministero degli Interni, sono Vito Badalamenti, di Cinisi, e il palermitano Giovanni Motisi, upacchioni. Gli altri due ricercati in Sicilia, ci sono Vito Badalamenti, di Cinisi, e il palermitano Giovanni Motisi, upacchioni. Grazie. Grazie.